Emergenza Casa per Anfas Biellese, a spiegarlo è Ivo Manavella della Cooperativa Sociale Integrazione, il braccio operativo dell'associazione, la cui sede provinciale si trova a Gaglianico. Presto avremo bisogno di altri spazi abitativi per le persone che frequentano il nostro centro diurno, asserisce Manavella. La questione è legata all'età avanzata di molti nostri ospiti, che ovviamente hanno a loro volta genitori molto anziani. Venendo meno la loro presenza, servirà a trovare nuove soluzioni per i ragazzi. Questo perché il futuro delle persone con disabilità sarà nell'autonomia, anche abitativa. Si tratta di un obiettivo raggiungibile per molte persone che già oggi frequentano le varie attività del centro diurno, ma domani potrebbero mangiare, dormire, vivere insieme in un alloggio con un'adeguata attenzione di figure professionali. Ancora sottolinea Manavella, il nostro appello è rivolto a tutte quelle persone che magari hanno immobili che non utilizzano, sui quali pagano tasse ogni anno e spese di manutenzione. Con loro si potrebbe cercare un'idea che garantisca la proprietà, però consentendoci l'utilizzo per un certo numero di anni. Il Abiellese è un territorio ricco di persone generose, conclude il presidente di Anfas, Maria Teresa Rizza. Ogni anno dobbiamo dire grazie a tanti benefattori. Sono sicura che anche questo appello non cadrà nel vuoto.